Il 12 aprile a Roma sono i 5 geniti, si trova una stessa vita, contro il suo pet, che vuole fare il tuo progetto, che ci vuole dare la fine, per riprendersi la casa, per riprendersi il vento, una sola grande della sola, riprendiamoci tutti, fuggiti nelle strade, il 12 aprile a Roma, fate la vostra parte, fate la vostra parte, vai uomo! E sì, e questo è il mio invito personale, 20 mili del Metti, solo 20 mili del Metti, 20 mili del Metti, solo 20 mili del Metti, 20 mili del Metti, solo 20 mili del Metti. La spinta che il 27 maggio scorso ci ha permesso qua a Bologna di cacciare la polizia da Piazza Verdi, cacciando la caccia in culo! E poi ci aprile all'ora, scendiamo tutti a Roma, andiamo da una spinta collettiva al governo Renzi, al visore della troica e al futuro di merda che ci aspetta, andiamo a scrivere la parte di storia dei movimenti! Tutti a Roma, contro l'austerità, da nord a sud, disoccupati, precari, tutti quelli che quotidianamente vivono sulla melle questa crisi che ci impone sacrifici. Quindi il 12 è la data giusta, segnato in agenda, il 12 di aprile a Roma, tutti quanti, i pullman da Bologna che organizza Cresce, la social log, l'università, informate che venite insieme a noi! Io sono il signor Kappa e voi tutti e tutte il 12 di aprile dovete essere in piazza Roma contro il governo Renzi, il governo dell'austerity, il governo che può farci pagare a tutti e tutte noi la loro crisi, il governo del Job Act che vuole impoverire il paese per avere mano d'opera a basso costo, il governo che vuole reprimere chi lotta per la casa, riprendiamoci i nostri diritti e riprendiamoli a spinta! 12 aprile!